Termina in parità il recupero dell'undicesima giornata d'andata tra Castelnuovo e Fiugi, partita non disputata lo scorso 28 novembre per Cassicovi dall'interno del gruppo squadra laziale. Squadra guidata da Di Fabio che avrebbe meritato senza ombra di dubbio la vittoria per quanto prodotto soprattutto nella ripresa dove è stato un vero e proprio assedio alla porta di Mejri. Ancora senza i tepadoni di casa che per l'occasione devono rinunciare a Casimiri, Bolo, Corticchia e Foglia. Dall'altra parte Romondini non ha a disposizione Ficara mentre rientra dalla squalifica Forgione. Già dai primi minuti prova a fare la partita la squadra ospite che sfrutta bene le fasce laterali. Il primo brivido per Natale arriva al sesto quando il Fiugi manovra bene sul settore di sinistra con Turzo che trova il rimorchio di potenza ma la sua conclusione viene messa in corner da Natale reattivo sul primo palo. Ancora termali propositivi in questo avvio di gara e pericoli provenienti sempre dai laterali, questa volta dalla destra Rocchi pennella bene per Forgione che lasciato libero non inquadra la porta. Per vedere i padroni di casa pericolosi in fase offensiva dobbiamo attendere il ventesimo quando De Giglio lavora bene di sponda un pallone per Emili che non ci pensa due volte a scoccare verso la porta ma il tiro si perde sul fondo. Prende fiducia la formazione allenata da Di Fabio e sfiora il vantaggio direttamente da calcio piazzato. E De Giglio dalla distanza a provarci ma non ha fatto i conti come Schrik si tuffa sulla sua destra e nega la gioia del gol al 7 in maglia bianca. Il Fiuggi commette l'errore di abbassarsi troppo e così il Castelnuovo ne approfitta per passare a condurre. De Giglio taglia come burro fuso la difesa e serve centralmente Emili che prova da lontanissimo trovando la deviazione decisiva di Thomas che mette fuori casa Mejri. Sesto gol per il trequartista che si lascia andare ad un abbraccio liberatorio con i suoi compagni. Trovato il vantaggio i neroverdi spingono alla ricerca del gol del raddoppio ma su una stupenda acrobazia di Ripa servito con il contagiri d'Alfieri Mejri si salva distinto mantenendo a galle i suoi. Parata fondamentale la sua perché al quarantesimo il Fiuggi agguanta il pareggio. Sfortunato Alfieri che nel tentativo di allontanare la sfera serve Soe il quale dal limite con un esterno collo azzecca l'angolino vincente alla destra di Natale. Il Castelnuovo potrebbe rimettere immediatamente la freccia e lo meriterebbe per quanto visto nei 45 minuti. Dall'esviluppo di calcio d'angolo e capitante Renzi a trovare lo stacco imperioso ma la palla si stampa sulla traversa. Con gli stessi 22 di come si era chiusa la prima frazione la ripresa si apre con i bianchi di casa ad avere una doppia occasione per passare in vantaggio. Sale in cattedra sulla sinistra Sanseverino che pesca Ripa centroare al dodicesimo ma l'attaccante stoppa bene ma in precario equilibrio spedisce alto sulla traversa. Un giro di lancette di ancora l'ex Juve Stabia questa volta di testa sempre su assist del terzino a spedire incredibilmente fuori. In questa ripresa i neroverdi hanno in mano il pallino del gioco ed è ancora il 36enne attaccante ad andare vicino al gol quando riceve palla al limite da Ragni ma il tiro termina a pochi millimetri dal palo. Il Castelnuovo non riesce a sbloccarla anzi si complica la vita quando Marianeschi già monito si becca il secondo giallo da Carlo Palumbo, direzione insufficiente la sua e lascia i suoi in dieci. I rosso-blu ospiti si fanno rivedere poi in pieno recupero con il calcio di punizione di Sowè ma l'autore del pareggio chiede troppo da posizione velletaria. Al fischio finale vehementi le proteste da parte della formazione di casa contro una direzione di gara a senso unico e poco convincente. Un punto che sta stretto alla formazione di Guido Di Fabio per come ha condotto gran parte della gara e per le tante occasioni non finalizzate ma resta la prestazione che fa ben sperare in vista del match di domenica contro il Porto d'Ascoli. Abbiamo fatto una partita strepitosa e i ragazzi la volevano a tutti i costi fare perché diciamo che nelle ultime partite il Castelnuovo c'è stato a sprazzi. Quello non è bastato sicuramente oggi ci voleva una prestazione di un certo tipo e i ragazzi dal primo all'ultimo minuto anche quando siamo rimasti in dieci hanno creato sette otto palle goal clamorose. Purtroppo in questo momento non ci gira per niente bene, ve lo dico sempre, non voglio mai parlare delle decisioni arbitrali ma puntualmente ogni domenica è una cosa scandalosa. Proprio metri di giudizio completamente opposti e questo ti ha fastidio perché io è vero che non voglio dare alibi ai miei ragazzi però arrivi a un certo momento è talmente lampante la cosa che diventa una cosa insostenibile. Comunque quello che c'è di buono dobbiamo prendere perché è una prestazione strepitosa che dobbiamo sicuramente continuare così. Beh sì, obiettivamente la squadra ha reagito bene a un campo nuovo, un campo veloce, ha reagito bene anche al goal subito, poi naturalmente nel secondo tempo abbiamo cercato più di ripartire e cercate di magari ottenere il massimo del punteggio. Comunque devo fare i complimenti al Castelnuovo perché comunque è un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà e gioca bene, ha dei giocatori validi però insomma devo comunque esaltare anche la prestazione della mia squadra che comunque sta giocando ogni tre giorni. Quindi è una cosa da non sottovalutare però credo che devo fare i complimenti perché a livello fisico tutti hanno retto fino alla fine e andavo sempre al massimo.